Aveva fatto discutere tempo addietro l'applicazione del canone patrimoniale ex COSAP alle ditte impegnate nella ricostruzione, soprattutto in centro storico. Così il consigliere comunale Lelio De Santis, nell'ultimo consiglio comunale, si era fatto portavoce delle tante richieste in tal senso, producendo un'interrogazione accolta con favore dall'assessore a ramo Raffaele Daniele per modificare il regolamento comunale e consentire l'applicazione delle riduzioni o esenzioni per l'occupazione del suolo pubblico da parte delle ditte impegnate nella ricostruzione di immobili, lavori appaltati o finanziati dallo Stato o dal Comune. Il problema, esploso qualche tempo fa, aveva mostrato una situazione complicata che rischiava di fatto di bloccare i processi di ricostruzione. Molte ditte infatti avevano ricevuto richieste di pagamento del canone patrimoniale per centinaia di migliaia di euro ed erano state costrette a presentare ricorsi con conseguente richieste di rimborso. La sensibilità del vice sindaco ha consentito di risolvere un problema serio che rischiava di ritardare la ricostruzione, gravare sulle tasche dei proprietari di immobili. Il caso delle cartelle aveva fatto parlare. In alcuni casi le cifre erano da capogiro, anche 300 mila euro, e molte imprese si erano già rivolte a delegali. Il Comune sin da subito però si era mostrato propenso al dialogo. L'interrogazione che ho preparato e presentato in discusso in Consiglio Comunale è riuscita a smuovere un po' le acque e a far comprendere all'esecutivo, all'aggiunti, all'assessore, a ramo, che si era trattato di un disguido, di un errore, di una cattiva interpretazione di una norma, di un articolo del regolamento, che stava, rischiava di penalizzare fortissimamente la ricostruzione, prevedendo una tassazione per il canone patrimoniale che ha sostituito la COSAP, molto molto pepato, molto salato. Però la norma, anche in passato, lo stesso nostro Comune aveva consentito di esentare o di prevedere delle riduzioni sull'occupazione del suolo. Nell'interpretazione attuale l'ufficio invece è stato molto più restrittivo. Naturalmente il regolamento all'articolo 61 va più che cambiato, va esplicitato, perché lì si parla solo che solo le opere realizzate direttamente da enti pubblici come il Comune sono esenti. Ma il Comune è ovvio, non è un'impresa, è un ente che realizza delle opere, che finanzia delle opere e le realizza attraverso il sistema dell'appalto.